Fratino è bravo però ha una testa di cazzo Torno a giocare a basket Crocchetta, è partito Fratino Può partire Una rete incredibile Fede Quindi decido di lasciare Dico forse il calcio non fa per me L'MVP della YouTuber League 2022-2023 È Andrea Fratino Ciao Andrea come stai? Ciao Fede grazie mille dell'invito Tutto bene Sei carico? Preferisco te sinceramente Mette sempre in difficoltà Lei? Con le sue domandine Solo con queste Va bene ci crediamo Location ti piace? Sì molto molto carina Molto familiare Molto verde Bello bello Senti Andrea allora Vorrei capire indipendentemente dall'Andrea Fratino Che tutti conosciamo Che vediamo sui social Un po' Andrea Quei ragazzo che nasce nel 2001 A Ossona no? Giusto? Sono nato a Magenta Magenta Perché su internet si recono fake news Sono nato a Magenta E ho vissuto ad Arluno Con i miei nonni Fino all'età di 14 anni Poi mi sono trasferito ad Ossona Per un breve periodo Ok E quando poi feci il programma televisivo alla caserma Mi ero appena trasferito da Ossona nuovamente ad Arluno E quindi è uscita questa cosa Quello ti è un po' lanciato nel mondo social Tu prima avevi una carriera calcistica Che hai continuato poi anche dopo Io in realtà ho giocato a pallone Nasco come giocatore di basket Perché mia nonna era molto appassionata del basket Poi arrivano in età intorno ai 10-11 anni Che tutti i miei amici giocavano a pallone Ma poi la cosa che faceva ridere era che loro si allenavano lunedì e mercoledì Io mi allenavo martedì e giovedì E al parchetto dopo scuola non ci vedevamo mai Eh quindi era terrificante Hai detto basket è stato bello Andiamo nel calcio Sì mi sono buttato nel calcio Ho esordito a Ossona appunto Ok Ho fatto due o tre annetti lì Poi sono andato in forza all'Insubria Che è il centro formazione Eh io qui volevo arrivare Che all'Insubria Tu sei tifoso dell'Inter Sì Però all'Insubria mi dicono essere affiliata al Milan Sì È centro formativo Milan Però comunque sai Quando mi è arrivata l'opportunità È un bel salto di qualità Un aneddoto che nessuno sa Mio fratello giocava a pallone Lui era veramente forte più piccolo E loro presero lui Poi hanno visto che c'era anche un fratello Che ero io Certo E hanno detto proviamolo L'Insubria aveva due squadre E raccomandato da mio fratello Faccio parte del Più piccolo lui Tra le altre cose Meraviglioso Di che amare 2005 Faccio parte del Il gruppo A Però mi sono trovato malissimo Sono stato Non dico bullizzato Però ero sempre preso di mira Nello spogliatoio Ero piccolino fisicamente E sono stato lì sei mesi Mi sono trovato veramente male Hai rilasciato Sì Non mi facevo manco la doccia lì Perché Cioè Era proprio diventata una situazione pesante Quindi Ho detto no Non mi trovo Poi La bustese Che al tempo faceva serie D Mi ha preso in considerazione Faccio due Tre annetti E poi Niente Torno a giocare a basket Hai cambiato totalmente Risordito a basket In serie D Quindi tu hai avuto sempre questo Questo doppio amore praticamente Ma io tuttora Ho la passione per il basket Ok Che però All'epoca Avevi lasciato quindi inizialmente Per gli amici Sì C'è stata una fase in cui ti sei detto Mi sa che ho fatto la cazzata Il problema è stato che Secondo me Quando giochi a pallone Devi avere tanto la testa E al tempo non ce l'avevo Cioè avevo un carattere molto estroverso Molto Ancora immaturo Ok Questo mi portava Sì Fratino è bravo Però è una testa di cazzo Ok Ok Dici che soprattutto Gli altri ti vedevano in questa maniera qui Sì E questa è una cosa che soffrì Non ero tanto rispettato Ero preso un po' Non di mira Però giustamente come giullare Un po' dello spogliatoio Capisci E E quindi decido di lasciare Dico forse il calcio Non fa per me Non fa per me Perché Nell'almente era un fenomeno Poi arrivava la domenica E non mi schieravano mai Ok Nel mentre Nasce questa passione Di organizzare questi calcetti Insieme a Fene Insieme a Nidal Sì E E poi C'è stato Il programma televisivo E nel mezzo anche la quarantena E quindi Tra virgolette Nell'apice Nella mia carriera Cestistica In cui stavo giocando in serie D Si blocca tutto E poi vado a fare Il programma televisivo E tu lì hai lasciato poi Il basket Sì Perché In realtà c'era ancora la quarantena E gli elementi non erano ripresi Però Si è aperto quest'altro Scenario Sì Mi ha dato comunque Una bella visibilità Diciamo che La caserma È il momento in cui Andrea decide Intraprendo il percorso social E mollo Quello sportivo Inerente a Sport a fine a se stesso Ma è nato molto per gioco In realtà Perché Io ero molto fan Al tempo di Uomini e Donne I miei amici lo sapevano Non avevo dubbi Non so perché No no Sì sì I miei amici sapevano Che io fossi attratto un po' Nel mondo della tv All'essere sempre un po' Al centro dell'attenzione E Compare questa opportunità Su facebook Dove un mio amico Mi dice Guarda c'è questo provino Per questo programma Io non sapevo Quello che Sarebbe stato Però ti intrigava l'idea Programma televisivo Basta Non sapevo cosa sarei andato a fare Non sapevo su quale canale Sarebbe stato trasmesso Poi ho scoperto Che era la caserma Un nuovo programma Rai 2 Blue Yasmin In collaborazione poi Post collegio Quindi quando Hai scoperto Di cosa si trattava Nello specifico È stata anche una presa Bene maggiore Cioè tu l'avresti fatto A prescindere Ti intrigava l'idea Io fino a quando Non ho fatto la prima ripresa Non sapevo che era Che fosse per Rai 2 Ok Ok Poteva essere un Non hai capito No Nulla togliere a cui Ah qui Infatti biffiamo tutto Finiva Però comunque La Rai è la Rai Capito quello che ti volevo dire Certo Quindi nulla E poi ho intrapreso Il mondo su Ho intrapreso Quello che sono oggi Ho iniziato a fare i TikTok Sotto consiglio di Chupilan Sì Con cui hai fatto la caserma Sì Ti ho conosciuto lì E mi disse Guarda se tu vuoi Inserirti Fare un passo Avanti rispetto agli altri Inizia già da adesso A fare i tuoi video Certo E quindi poi Quando è uscito il programma C'avevo una fanbase C'avevo la mia base E mi prendeva molto per il culo Nel paese Perché Dall'oggi al domani Ho iniziato a fare Le storie parlate I TikTok Come quella fase lì Perché tu chiaramente Hai quella passione Sai che può funzionare Perché si crea Quella certe Gli altri non lo sapevano Perché non lo potevo dire Però non per il culo Certo O soffro la presa per il culo Banalmente Delle persone Non me ne sono mai importate In realtà Che è una gran cosa Non è Non è Penso che se uno parla O è per chi è invidioso O è per chi è invidioso Erano voci di paese A me sinceramente Non mi interessava proprio Cioè nel senso Io parlavo con Giorgio Sapevamo che il programma Avrebbe spinto Ero sicuro Dei miei mezzi Ma io li lascio parlare Poi vediamo Poi vediamo Poi vediamo Ma in realtà anche dopo Quando ho avuto 40.000 follower Continuavano Perché Mi aspettavo Che il programma Fosse un collegio 2 Cioè paradossalmente Se avessi fatto il percorso Che ho fatto alla caserma Al collegio Sei riuscito di lì Tranquillamente Con mezzo milione Certo Ha avuto numeri minori Ma questo secondo me Oggi è stata una fortuna Perché oggi Non sono Andrea Fratino Della caserma Ma sono Andrea Fratino E basta E questo ti ha aiutato Ti ha dato La spinta iniziale Ma è stata una spinta Se capisco bene Ciò che mi vuoi dire Più mentale Cioè lì tu hai capito Che potevi intraprendere Quel percorso Poi qualche numero È arrivato Ma non Ci sono tanti personaggi Che hanno fatto il collegio Poi sono spariti Perché sono rimasti associati Al collegio Quello che ha fatto il collegio E basta Cosa fai nella vita Eh quello ha fatto il collegio E quello ha fatto il collegio Poi però Io penso sempre Che sia Saper cavalcar l'onda Cioè chi riesce A farlo meglio E chi no E magari non sono riusciti A tramutare Quella fama In poi Quello che magari Potrebbe essere Un futuro Non so se mi sono spiegato Sì C'è un'altra cosa Che mi inquiesisce tanto Che è un capitolo Molto importante Della tua vita Che è un incidente Molto molto grave Ma la passione del pallone Nasce lì Sì Perché Quando poi Finisce il Il covid Avevamo ripreso A uscire Iniziamo a organizzare Questi calcetti Ok A cinque Ok Quindi tu parti così Classico calcetto tra amici Io e Fene Portavamo gli altri due o tre E affrontavamo Piano piano Squadre in zona Nei paesi Arlu Una bustola Rolfor A quelle parti lì E mi ricordo che Al tempo Abbiamo dato una grossa batosta A Nidal E ci siamo presi in squadra Ok Non so se conosci il format Che fa Ragnar No? Sì Noi l'abbiamo fatto Nella vita reale Che poi è così Perché nasce tutto per gioco E si porta sul web La bellezza di queste competizioni E poi è questa qua Noi l'abbiamo fatto nella vita reale Abbiamo preso Nidal Sì Abbiamo preso Lopez Che è un altro ragazzo Con cui è del mio paese Con cui siamo cresciuti E Bala Uguale Ok Con cui Fene lo conosce da Da vent'anni Mi ha formato questi Gli invincible Di calcio a cinque Poi avevo Anche già Una minima notorietà E quindi era bello Pigliare per il culo Le persone Certo Anche oggi Il calcetto lo pago domani E quindi tutti Volevano giocare con noi Che succede Perché la notte Il 20 di settembre Del 2021 Come mia consuetudine Organizzo un calcetto E abbiamo organizzato Questo famoso calcetto E come sempre Era il campo Ma sto giro Volevano giocarci Anche il tavolo In discoteca Ok Erano amici Una squadra molto forte Con cui una volta L'hanno vinto Una volta l'hanno perso In tornei di zona Ho detto Dai giochiamo Giochiamo la partita La pareggiamo Ok E quindi in quel caso Rigori No Finito il tempo Perché tu pagavi un'ora È finita lì E ognuno paga su Diciamo Vabbè andiamo in discoteca Andiamo in discoteca E finisco in macchina Con un ragazzo Dove saremo Come si dice Lui era l'organizzatore Della serata Ok Quindi lui era venuto A vederci Perché poi saremmo Andati assieme Ok Vi dava un passaggio Lui Sì Abbiamo detto Andiamo al mac Poi andiamo a casa Ce la abbiamo Andiamo a ballare Abbiamo avuto La sfortuna Che lui non fosse Della zona Ok In questa grossa rotonda Sbaglia l'uscita E finiamo in questo Grosso rettilineo Questo grosso rettilineo Comunque È una bella macchina No Quindi andava anche Andava anche Il problema Che poi Sostanzialmente Per rientrare In questa rotonda Siamo andati Abbiamo fatto un bel pezzo 500 600 metri Rotonda Per tornare indietro E andare poi Nell'uscita del McDonald Stanno correndo E O può sembrare banale Io ancora oggi Me lo rimprovero Mi vado a malare Improverato Quando corre Non hai La concezione Di dire Oh dai vai piano C'è la musica alta Chiacchieri Ridi Ti diverti Banalmente anche Di chi guida E nulla Poi C'è successo Quel che è successo L'incidente E da lì La mia testa Era solo Non vedo l'ora Di recuperare Per tornare a giocare a pallone Tu prima mi dicevi Da piccolo Lo spogliatoio Calcistico Lo soffrivo Non ero Self confident Lì È un momento importante Per Andrea Perché tu capisci Che carattere hai Sei costretto No lì ero da solo Ma ti ripeto Non ero tanto Voler riprendere la mia vita Riprendere a Era il calcio Sì sì Io in testa lì Avevo soltanto il pallone Perché Giocando a calcio 5 Non hai neanche la pressione Di dire Devo giocare per forza Giocavo bene Basta E divertivi Era a casa tua A fuori di giocare 3-4 volte a settimana La confidenza La prendi Giori mezzi Segnavo tanto Poi calcio 5 Un altro mondo Sì 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 Un'altra cosa L'anno prossimo Nella summer cup Ci fai vedere Spero Spero E quindi Il mio focus Non era TikTok Non era Tornare in villa Con gli altri ragazzi Non era Era solo il calcio Solo il calcio Solo il calcio E quello gli ha dato La forza Sì Io lì Cioè se uno mi dice Eh ma fratino Prima dell'incidente No al cazzo Cioè Fratino adesso Ha raggiunto Un livello Che non ho mai toccato Tante le donne E lì ti ci porta la testa La voglia Di fare sempre di più Avevo letto Noi non ci conoscevamo Avevo letto Dell'incidente Della tua storia Qualche tempo fa Mi aveva colpito molto Perché Insomma non so se sai Che anche io Da piccolo Ho avuto un gravissimo incidente No non lo so Sempre a settembre Ma la gamba Te la faccio vedere Ma non la faccio vedere In camera E questa qua Ma giriamo Ma io non lo sapevo Questa cosa E questa cosa qui Mi è successa Sempre nel mese di settembre Tra l'altro Sfigatissimo Faccio la terza media Era il 18 settembre All'uscita di scuola Ero lì che aspettavo Che mi venissero a prendere E un deficiente Del quinto anno Perde totalmente Il controllo della macchina Mi prende Tu fai conto In quel momento A parte rischiare Di rimanerci La cosa più logica Era amputazione della gamba Veramente? Era la cosa più logica Cioè non era più una gamba Hanno fatto un miracolo i medici Mi hanno portato Al Gemelli A Roma Che insomma È tutto sperimentale Quindi c'erano dei giovani Hanno provato in tutti i modi Ho fatto 11 operazioni Una da 13 ore E quindi Quando leggevo Di questa tua esperienza Di come l'hai vissuta Di come l'hai voluta raccontare Sui social Mi colpiva Perché mi ci rivedevo tanto C'è quella voglia lì C'è quella passione Che ti diventa Chiara in testa Tu magari puoi avere Tante idee Nel pre Però attraversi quel momento E dici Adesso rompo il culo a tutti Senza mezze misure Adesso ho quella consapevolezza Ho quella voglia di fare E la cosa bella Nel tuo caso È stata poi Che il calcio Lì Non era più Veramente soltanto un gioco Ma è diventato la tua vita Era l'obiettivo Era tornare lì Sì Ti ripeto C'avevo in testa La voglia di tornare a giocare Su un campo da calcio Perché I dottori mi dissero Che non c'erano possibilità di riprendere A fare attività fisica Ma io invece ero convinto Quando una cosa se la sente Se la sente Determini tu quello che si succede Io devo stare in ospedale Quattro mesi Quattro settimane Quindi E quanto fa la testa Cioè se la tua testa è pronta Il tuo corpo Recupera anche Assolutamente Con una velocità diversa Che lo sa che ci è passato No Questo punto di vista Condivido appieno E quindi hai poi intrapreso Questo percorso Sì Ma è stato un periodo di merda Perché Ma è stata tosta La riabilitazione Oltre alla riabilitazione In campo Facevo veramente schifo Eh lì Tu sai che puoi dare di più Però non servire Vivevo con la testa Che cazzo Fino a sei mesi fa Giocavo E adesso Non riesco a far nulla Avevo paura di tutto E la cosa che mi bloccava Era la paura Cioè se tu mi sfioravi Mi sa di la paura Del contrasto Cioè La paura del contrasto Del contatto Di una caduta Poi Parlo con Fenio Mi ricordo Dovevamo fare un torneo a 5 E Tre giorni prima Facciamo una partita Per vedere la situazione Perché Fino a fatto l'incidente In macchina Come questa cosa Che Ah ecco Questo Nessuno sa E Lui ha fatto la sua Riabilitazione Lui C'è una placca Sull'anca di destra Si è ricostruito il viso Perché si è spaccato tutto E E quindi Volevamo vedere Vediamo un po' Lui vedevo che recuperava Io Ancora non Avevo paura La palla scottava Cioè Non Lui mi prende E mi dice Andre Cioè Sono passati 4 mesi 5 mesi Sei uscito all'ospedale Stai bene Cioè Se cadi non succede nulla Quindi per gioco Mi butta giù Una, due, tre volte Io capisco che Va bene Faccio un signor torneo E da lì Il mio cervello si è sbloccato E poi Con la costanza E la roba Poi a settembre Youtuber League Quindi è stato tutto Molto Molto immediato Ricordo una chiamata con Luca Con cui decidi di aprirti Questo canale su YouTube Per fare video insieme Sempre per L'idea Amicizia Gioco Trasformiamola in passione Trasformiamola nel Nel web E portiamo a casa Anche dei risultati Ricordo quella chiamata La raccontiamo Anche aneddoto A chi guarda il video Io ero al mare L'estate scorsa Stavo per Fondare la YouTuber League Per creare la YouTuber League C'era stata soltanto La Summer Cup Mi video chiama forse Luca Sì 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 Che erano in contatto In quel periodo E mi fa Guarda Io nella Juve E qui sfatiamo questo tabù Perché Luca doveva giocare Nella Juventus Mi dice Io nella Juve Voglio Andrea Io Ma Andrea De che squadra è? Dell'Inter Però abbiamo il canale insieme E qui Nell'Inter non c'era spazio Erano troppo forti Perché continuavano Sempre solo a vincere loro È vero È vero Speciale la Summer Cup Perché poi Nella YouTuber League Si sono visti in difficoltà Quindi Lì mi è stato detto Capiamo Eh sì Vediamo poi il livello E io in più ho detto pure Se mi prendi Però devi prendere pure Fene E io mi ricordo questa cosa Tra l'altro Vogliamo dire questa cosa? Fene ti fa Roma Sì sì Lo diciamo Però è sempre stato il portiere Degli Elei E quindi lo scorso anno Era alla Juventus per questo motivo Sì era il pacchetto E lei Che giocava nella Juve Dream Team Però insomma È stato un anno molto divertente Sì 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 Perché tu Da non tifoso della Juve Ti sei trovato a giocare Subito senza Luca Da che dovevi giocare insieme? È vero sì sì Perché lui si infortunò alla caviglia Esatto Eh sì Sì poi la partita contro la mia squadra del cuore E la partita di cui segni quanti gol? Tre gol Più il rigore perché andate dai rigori Sì 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 No tre con il rigore A tre con il rigore Sì Ne ricordavo una punizione nel secondo tempo Sì Il gol di sinistro da calcio d'angolo Sì E il rigore Ok ne ricordavo uno in più Partita finisce 6 a 6 E poi calci di rigore Sì 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 Ma è stata una partita Eravate sotto 3 a 0 Inizialmente Però è che l'Inter Fortissima E lì però si è visto La mentalità La voglia di non mollare Mi è finito il primo tempo 3 a 1 Sì Con quel gol proprio tuo Che sembrava Dai L'abbiamo fatto così Secondo la bandiera Ricordo Toselli Di gollo esterno Sono una partita incredibile Che pega all'ultimo Bellissimo Bellissimo Una signora partita Sì E lì è partita col piede giusto Quindi l'esperienza alla Juventus È stato un anno importante Tu hai chiuso con 6 gol Con 9 gol e 6 assist O 7 assist più o meno Più o meno sì E qual è il ricordo Più bello e più brutto Che hai dell'esperienza alla Juventus Lo scorso anno? Più bello sicuramente a Napoli Noi carichissimi Sicuri dei nostri mezzi In una maniera incredibile Uno spogliatoio unito Potevi parlare veramente di tutto Cioè erano poco compagni Né erano creator Cioè noi arrivavamo lì E diventavamo una squadra E quella è la differenza Che spesso uno sottovaluta No però poi Sì È vero che è contenuto È vero che siamo tutti creator Però è una partita di calcio E quindi fa la differenza Giocavamo su un campo pesante Perché Napoli è una piazza Mamma mia Lo so C'erano 5.000 cristiani lì fuori Fumogeni Striscioni Cori E lì per la prima volta Mi sono sentito un po' calciatore Ricordo anche l'esultanza Che hai riproposto recentemente Ogni pallone toccato Ogni pallone toccato era un fischi Quindi la situazione complicata E poi abbiamo vinto la grande E poi abbiamo vinto la grande Anche lì ho fatto Questo tre gol Lì tre gol sono sicuro Valla a cercare fratino Al volo Voglio capire Cosa è stato giocare Con Luca Campolunghi Che è un amico per te E con lui avevi E hai Questa esperienza Assieme su Youtube E cosa significa Affrontarlo da avversario Tra poco Noi ci troviamo Nella vita in generale Siamo Due persone caratterialmente Diversissime Dove lui è riuscito In un periodo mio di difficoltà Di equilibrarmi Cioè se oggi sono magari Un po' più pacato Più tranquillo È anche merito suo Lui mi ricordo Quando stavamo in Stardust Mi prendeva da parte Mi diceva Non puoi far così Andrei di calmarti Di gestire queste cose Sono un fratello maggiore Sì 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 Assolutamente E in campo C'è chi gli devo dire Io alla fine Mi passavo solo la palla E la buttava dentro Essenzialmente questo Una coppia poco legale Se mi posso permettere No ci troviamo in tutto Perché C'è lavoro sporco Lui si trova sempre lì Mi ricordo La La partita folle L'ha fatta col Milan C'era La prima Mi ricordo Lui arriva a quella partita E mi dice Guarda mi fa ancora male la caviglia Io non so se riesco a giocare Stava male Tant'è vero che fa tre gol Ed esce Infortunato Però Segna in tutti i modi Con la palla che gli sbatteva C'è il gol Che lui fa nel secondo tempo Su tuo cross Che è un tiro cross Spizzicata di testa Io ancora cerco di capire come Quello è impossibile Me lo confermi Perché io sono scarso E dico impossibile Però No Io gliel'ho messa Lui C'è La toccavi di più Andava fuori Eh sì La toccavi di meno Non entrava La messa tra la traversa E la punta delle dita Del portiere Una roba Incredibile E adesso però Siete avversari Sì ci siamo sentiti ieri Tra l'altro Mi fa Oh settimana prossima Giochiamo contro E a Binge ho giocato contro Due volte Su appunto Canale di Fene E com'è da avversario Luca? Vabbè In realtà Il livello è alto Nel senso Luca da avversario Contro di noi La prima partita L'aveva fatta Che non stava nel pieno Della forma Ok L'avevamo fatto noi Contro la top Di Youtube Ok C'era Samo C'era Crispo C'era anche Dada Dose C'era Spera Ragnar Sì 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 Devo dire che noi Seven Sins C'abbiamo Bala E Abi dietro che L'ha messo parecchie in difficoltà Diciamo Messo lì in mezzo Ha fatto fatica Abbiamo giocato anche di recente Contro la squadra di Pascali Ok Che ha chiamato Luca E anche lì L'hanno limitato molto La verità è che lui È molto focus Sulla Youtuber League Cioè noi Entrambe le partite Mi hanno detto Andrea non voglio farmi male Per Per la Youtuber League Certo Quindi vedremo 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 Però perché è focus Sulla Youtuber League Vediamo Vediamo che succede Ma Quest'estate Quindi possiamo dire Tu hai fatto una scelta di cuore Hai detto È stato bello Con Luca Sì Allora Mi sarebbe piaciuto Tanto vincere L'ultima con la Lazio Per poi passare Perché già lì Io ricordo L'anno scorso Tu me lo dicevi Mi piacerebbe giocare Con l'Inter L'anno prossimo Tipo Inter Però tu quasi Cambi idea E sottolineo quasi Perché poi all'Inter Ci sei andato Dopo la sconfitta In finalissima Sì Perché non ci stavo dentro Perché abbiamo vinto tutto E poi Su un campo enorme Una partita Di merda Ho giocato male Cos'è che non ha funzionato Quella sera Perché avete vinto Tutte le partite E avete perso Una che era la più importante Camper enorme E io Cioè In realtà noi giocavamo Con tre dietro Io in mezzo Che facevo in mezzo Sinistra e destra In ripartenza E su un campo grosso Come Cos'è il centro Ciriaci Si chiama Il Ciriaci Il Ciriaci Non lo potevo fare E siamo andato in difficoltà Questo secondo me È stato La verità E poi la Lazio È un po' la tua bestia nera Perché ci hai perso Anche adesso con l'Inter Sì La prima partita Sì Però anche lì Sono arrivato Che Non eri al 100% No Era al 100% Ma il campo Te l'ho detto Con la fattura Della schiena Non ha aiutato Però tu prima Adesso al di là Degli aspetti tattici Mi parlavi Della bellezza Dello spogliatoio Della Juventus Ti sei trovato Praticamente a casa Nonostante non fosse La squadra Che tifi Ti chiedo Se hai trovato Delle differenze Da questo punto di vista Con l'Inter E eventualmente quali Perché insomma Sono due spogliatoi Sicuramente almeno dall'esterno Mi sembrano molto diversi Poi Non so Guarda Juve Te l'ho detto Per me è a casa Voglio anche salutare Tutti i miei compagni E Sono contento di rivederli Invece a Inter Te l'ho detto Ho avuto delle Non è che mi sono Non mi trovo male Non ci conosciamo Loro hanno comunque Già le loro stelle Bisogna semplicemente Trovarsi Serve conoscersi Sì Serve conoscersi Abbiamo fatto la prima Vera partita assieme Una partita importante Contro una Lazio Che doveva vincere per forza Quindi Quindi niente Però Adesso anche voi Contro la Juve Dovete vincere con 5 gol di scarto Per andare in finale d'andata Altrimenti C'è ovviamente la fase di ritorno Quindi C'è tempo anche per sognare Di alzarla Però questo Sono sicuro comunque Che faremo bene Abbiamo voglia di rivalza E Io a maggior ragione Voglio Io far bene Anche vista la La scorsa prestazione Che non ho Non ho brillato Vedremo Vedremo Facciamo un gioco Andre Ti chiedo Qual è Ma tanto Una mezza idea Ce l'abbiamo tutti Secondo te Il tuo gol più bello All'interno della YouTuber League Eh quello Quello lì A Napoli Mi ricordo Quello del 3 a 1 Si Palla su Sull'esterno Faccio una La crocchetta Su Baffo Si E caccio una mina A incrociare Da posizione Ti ho perso la voce Sostegno Fratino Destro-sinistro E ciao a Baffo Forte Fratino Si si Secondo me Secondo me Anche avrei detto lo stesso Io l'ho già commentato Insomma lo sai Quindi il giochino Che ti propongo è Ti va di ricommentare Il tuo gol Io te lo faccio vedere Ok Io te lo faccio vedere E tu me lo ricommenti Ok Vediamo un po' che cosa sai fare Perché poi Cioè devo fare la telecronica Certo Io mi metto in gioco Ogni volta Faccio anche il calciatore All'interno della YouTuber League E tu qua mi devi Per forza di cose Va bene Guarda te lo lascio qua Lo fai partire Quando vuoi Proprio da rinvio di Fene Si parte Ok La prima volta Qui siamo sul 2 a 1 Qui siamo sul 2 a 1 Per la Juve Ok ci proviamo Aspetta togli l'audio Perché tu puoi farmi da Se vuoi ti faccio la seconda voce Togli l'audio però Vai quando vuoi Dunque vediamo Il rinvio Palla lunga Per Luca Che la mette giù Solo come lui sa fare Palla per Fratino Può puntare Baffo Serie di finte Crochetta È partito Fratino Può partire È una rete incredibile Fede Ma cosa ha fatto Mamma mia Ma che cosa è Solo lui Solo lui 3-1 Ghiaccio per partita Lo rivediamo Ghiaccio per partita Posizione impossibile Solo lui Poteva fare un gol del genere Un gol da DS Un gol da Andrea Fratino Disse Federico Marconi Quel giorno Bello Bello Non me la son calata male No Ditelo voi nei commenti Io non lo so Forse perché Mi sono autocommentato Quindi È l'emozione Allora io Quando giocavo contro Luca Su Switch Facevamo i telecronisti Lui molto bravo Se ti capita Lui veramente bravo Ce l'ha C'ha i termini giusti Lo sentiremo qui Un giorno Gli faccio commentare Un suo gol Lui molto bravo Io Poco non è cosa Però in campo Ti devo fare complimenti Non è facile fare la telecronica A me viene automatico Quello che a te viene automatico In campo A me viene automatico fuori Quindi diciamo Quando giochi ti fai la telecronica da solo No Lo sai una volta l'ho fatto Imbarazzante Io lo feci in un provino Alla bustese Che ti dicevo Mi son preso la peggio cazzata Incredibile Sì Ogni giocata la commentavo Ero tutto Allora non abbiamo finito con i giochi Perché ce ne ho altri Allora ti faccio vedere Adesso delle foto A caso Loro non sanno Chi c'è nella foto Tu non devi dire il nome Decidi cosa dire Per far capire o meno Mi devi dire cosa pensi Di questa figura Che vedrai inquadrata nella foto Pronto? Andiamo con la prima? Sono cinque in tutto Allora Parlo lì Parla lì Ragazzo umilissimo Un amico No è gentilissimo Mi ricordo la prima volta Che ci siamo visti Come ti dicevo Ho avuto la capacità Di fare un passo indietro Che non è una roba da poco Parli di campo Sì sì di campo E mi è venuto incontro E mi ha detto Vabbè se tu vuoi stare davanti Stai davanti Ragazzo umilissimo Gentilissimo E merita tanto Secondo me Ok Può dare tanto Ok E questo era il primo Ovviamente nei commenti Il vostro compito È indovinare Di chi si parla Andiamo col secondo Aspetta voglio metterti Un po' in difficoltà Ok Bravissimo ragazzo Ecco Hai riso Prima di dire Bravissimo ragazzo Bravissimo ragazzo Educatissimo Condivido con lui Tante cose Da poco siamo andati A convivere Il calcio non fa per lui Il calcio non fa per te Continua a fare le sfilate Però il calcio non fa per lui Il calcio non fa per lui No allora ti dico Io l'ho conosciuto anni fa Facciamo un calcetto assieme Era molto bravo E l'infortunio che ha avuto Quest'estate L'ha condizionato tanto E adesso si sta Lui sta ancora recuperando Anche a Napoli Vabbè tanto si è capito Di chi si parla In questo caso Però anche a Napoli È arrivato molto appesantito Sta dando tutto Allora ti faccio vedere Un'altra foto Lui è un fenomeno Ecco Molti Secondo me L'hanno sottovalutato È una testa calda Un po' come me Però per me è un fenomeno Lo sta dimostrando Il youtuber lì Che sta facendo bene Alla summer cup Ha fatto bene Quando lui È venuto pure su Seven Sims A fare un torneo Quando lui vuole giocare Per me non ce n'è Non ce n'è Chissà se anche qui Avete capito Di chi si tratta Oppure no Ti faccio vedere un'altra foto La penultima Qui insomma I già anticipato qualcosa Lui è un altro fenomeno È in grado di Qualunque palla che tocca La trasforma in gol Parla ovviamente di Seekwolf Secondo me È il miglior centroavanti Che c'è in youtuber lì Eh io condivido Io condivido Allora aspetta 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 Manca l'ultima Manca l'ultima Che già so chi è Già so chi è Sì 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 Perché Hai visto No no me lo sento Te lo senti Secondo me non l'hai capito Ok vediamo Secondo te è un maschio O una femmina Un maschio No No Adesso vediamo Mi devi dire cosa pensi Eh niente Siamo grandissimi amici Amici Sì 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 amicissimi Adesso amici Praticamente conviviamo Perché è sempre a casa nostra C'è stato un periodo in cui siamo stati lontani Ok Che ci siamo un po' persi E poi ci siamo ritrovati Per me è una sorella più piccola E condividiamo tante cose Ma aiuta tanto E molto matura per l'età che ha Ok quindi sei riuscito a dargli a palo due volte Prima hai detto No no Siamo amici poi addirittura È una di quelle ragazze Con cui non mi sono manco mai trovato Nella situazione di Dover definire il rapporto Cioè Giusto all'inizio Quando avevo scoperto di lei Ci siamo scritti un paio di volte Ci siamo mezzi stuzzicati Ok che è normale Buona Eh Andre Abbiamo finito Ok Mi ho parlato della tua vita Del te creator T'ho messo un po' in difficoltà A questo punto non posso che farti Un grande in bocca all'Uver Juve Inter Ci credi nella qualificazione? Io ci credo Se scendo in campo è perché voglio andare a giocarmi la finale Quindi sarà difficile Ce la metterò tutta E devo riprendere Luca nella classifica marcatori Io sto a zero Lui è Anche Chris può sta a zero L'anno scorso se la sono giocata loro Luca tra l'altro me l'ha detto Lazio Juve Alla prima partita in assoluto di quest'anno Vedrete che Andrea quest'anno Cercherà di starmi dietro in classifica marcatori Sì sì Io penso che Al di là tanto del gol Sia la prestazione Ho fatto male la scorsa Scendo in campo per vincere Di 5 gol di scarto Quindi Che poi saranno i miei gol O quelli di Gunter O di Gnabrio O di qualcun altro Oltre la squadra Sono contento Grazie Andrea Grazie Alla prossima Ci vediamo in campo Ciao 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 Ciao